Abbiamo scritto un libro insieme e Repubblica si è anche rifiutata di fare una recensione a un premio Nobel, siamo veramente caduti in basso Dario, ma però guarda, guarda la gente, guarda gli sguardi, sono cambiati gli sguardi. Mi sembra di esser tornato indietro di molti anni, alla fine della guerra, l'ultima guerra mondiale, ci fu una festa come questa e c'era tanta gente come siete voi, felici, pieni di gioia. Non dico speranza, la speranza lasciamo la parte, di certezza che si sarebbe rovesciato tutto, non ci siamo riusciti. Fatelo voi per favore, fatelo voi, ribandate tutto per favore. Io mi ricordo che in quell'occasione c'erano quattro contadini che sono arrivati qua con altri contadini e portavano sei piante e le hanno piantate, una qua, una là, una là, una là, poi sono sparite. Le piante erano il segno del si ricomincia. Vorrei anche che questa sera ci fossero quelle piante piantate per dire si ricomincia da capo! Grazie, grazie! Ma da dove prende tutta sta forza sto matto ragazzi? Una forza incredibile! C'è un tedesco che mi ha telefonato, un giornalista tedesco che mi ha telefonato poco fa, proprio poco prima che mi telefonasse il mio amico e mi diceva Ma che cosa sta facendo quel grillo? Se ne sente parlare dappertutto, in tutta la Germania, l'Austria, se ne sente parlare in Jugoslavia, più in su, in Francia, in Inghilterra, in Svezia, in Norvegia Tutti vogliono sapere di questa cosa straordinaria che state mettendo in piedi, all'improvviso Non mollate per favore! Non mollate! Grazie!